3, 2, 1 Cornute sì, ma coglione no Eccola lì Mi sento un po' come La Hillary contro il pupone L'hai visto? Raga io non l'ho ancora visto È molto bello, vendicativo Mamma mia No scherzo, non è un podcast vendicativo Noi non crediamo nella vendetta E parliamo un attimo del Perché siamo qua a fare un podcast A parte che amiamo essere Originali perché insomma Nessuno lo sta facendo No in realtà siamo qua a fare un podcast perché Siamo tre persone che oltre ad essere state tradite Sono anche un po' ansiosette E pensavo ci piace parlare Sono tre persone ansiose e logoroiche Esatto Ci piace fare oversharing A parte questo la verità è che le persone un po' ansiose come noi Sanno che la cosa più difficile da affrontare Sono quelle situazioni in cui Non ti sentire avere il controllo Anche perché un po' dobbiamo dircelo In realtà nella vita la maggior parte delle cose che ti succedono Appunto ti succedono e le subisci Non è che hai tanto controllo L'unica cosa che puoi fare alla fine è raccontarle a qualcuno Esorcizzarle Però l'idea è parliamone Affrontiamole Facciamo anche un po' di terapia di gruppo Ma soprattutto Cioè sarebbe bello che qualcuno dall'altra parte Che ha magari queste paure, questa ansia rispetto a queste esperienze Possa dire Dai cazzo alla fine si sopravvive Alla fine fa un po' meno paura E qui ci mettiamo la sigla no? Raga non avete idea di quello che è successo Vi devo raccontare tutto Comunque si sopravvive Qual è stata la vostra prima reazione al sapere di essere traditi O scoprire di essere stati traditi Grazie Allora a me è crollato un po' il mondo addosso Cioè diciamo che lì ho scoperto che un po' Questa cosa del voler perdonare Perdonare del vedere il perdono Come l'arma migliore Era un po' una maschera che me l'ho costruita Della persona che io volevo essere Ma piccolo rewind Com'è successa questa cosa? Cioè com'è che ti sei trovata di pronta al tradimento per la prima volta? E in un modo nel vecchio classico modo credo Che sia probabilmente il più frequente Ossia ho guardato il telefono No Del mio ex ragazzo Sì Atto che ovviamente ritengo sbagliatissima Non bisogna fare Non sono Quindi però tu hai scoperto Solita fare Io ho scoperto Sì In realtà a me non è che sono Almeno non ero Adesso ovviamente sono un po' più con questa ossessione Ossessionata da guardare il telefono degli altri Anzi adesso sono tipo fobica A causa di questo Che non vuoi più vederlo Io sono una di quelle che c'è Giro il telefono Se me lo metti di fianco Non voglio vedere Però anche io credo molto Cioè anche io ero un po' nella tua situazione Ora credo molto nella privacy No assolutamente Però non lo so Non so di nuovo Se mi trovassi di fronte alla situazione Per cui ho dei forti dubbi Che una persona mi tradisca Non so se lo farei oppure no È difficile avere un'opinione netta per me Io l'ho sempre detto Sempre detto Se mi tradisci Se mi hai tradito Non me lo dire Cioè proprio non lo voglio sapere Non voglio sapere niente Perché sapevo Che si sarebbero installate In me Insicurezze Problemi E cose che mi porterò avanti Per sempre E quindi Non ho sempre detto Io non voglio sapere Però sai che in realtà Cioè mi ricollego proprio a questa cosa Per raccontare la mia direzione Allora innanzitutto È una storia che fa molto ridere Io penso di non averlo mai raccontato nessuno Ma vabbè Vi faccio un breve set della scena Quarantena Quindi decidiamo di fare una sorta di date a distanza Come si facevano al tempo Ma date a distanza? Cioè che eravate tipo in zoom? Sì 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 Ah ok Su FaceTime Ok ok Quindi niente io Ma raga ve lo giuro Parlando del più del meno Dico Guarda ho letto questo articolo Comunque è vero Io credo Questa cosa che dice questa giornalista Il fatto che comunque Il tradimento Nella nostra società Viene concepito come la cosa peggiore Che ti possa succedere Come la fine di tutto Ma nella verità dei fatti Certe relazioni Possono Anche attraverso appunto L'onestà La comunicazione eccetera eccetera Superare determinate cose Raga io ve lo giuro su Dio Faccio questo discorso E lui Inizia a venire Il magone Tipo come i bambini Con il labbrino Così Inizia un po' Questa faccia Corrucciata Faccio che c'è Ti ho tradita Io era sempre Dato da mia madre Ho un intestino delicato Alle emozioni Dopo dieci minuti Di urla Interrompo la telefonata Decendo No devo andare un attimo A fare la cacca Torno più tardi Anche tu ne sai qualcosa Intestini deboli All'inizio Come lei Mi ha parlato Il mondo addosso Cioè Poi non ci credevo Dicevo Cioè Non ci credevo Non ho parole Per descrivere Cioè Siamo in testa In quel momento Poi a un certo punto Ma proprio perché Per me era una cosa Inconcepibile Che Non perché Non perché io Mi credo di essere Chissà chi Che io venissi Stratita Ma perché I feel special Brava Però c'era anche quella Anche da parte mia C'era soprattutto il Ma tu non hai capito Che cazzo di gioiello avevi Oh bro Esatto E quindi a un certo punto Ho iniziato a dire Cioè Ma tu hai fatto questo a me Ma Ma Tu hai fatto questo a me Ho iniziato A sbarnare in questo modo Poi Ai livelli di Ai livelli Ogni Riferimento Puramente casuale Che però anche qua Non so voi Nel tradimento Comunque molto spesso Si parla della terza persona No Per me era totalmente Ininfluente No Anche Quello anche per me Posso dire Beh Totalmente Cioè nel senso Non me la sarei mai presa Con lei Numero uno Perché non mi ha fatto mai Nessuna promessa A questa persona Poi Posso anche dire Certo magari hai una morale Che Non mi fa impazzire Non reputo brillante No Per il fatto che comunque Tu sei andato con una persona Fidata Beh Posso dire raga Io non posso fare la Bonista No Non ti auguro Di andare a raccogliere Margherita Sicuramente Ah ci sta Diciamo la verità È vero Vabbè ci sta Ma perché è una roba Poi Non sono così stupida E razionale E di pochezza E bassezza Da andare a prendermela Con Ma capito È semplicemente una persona A mio parere Sono cattiva Se lo dico Senza valori No Senza valori ci sta Ma quello che mi dà fastidio È Caricare parte di responsabilità Su una persona Che a me non ha mai promesso niente Perché sei tu che hai fatto Le promesse a me Sei tu che hai avuto Un rapporto con me Quindi che io me la prenda Con una terza persona Non mi interessa No No certo Triste Sì Cioè a me viene un po' di tristezza Per questa persona Perché Non so Io in primis Cioè per me stessa Non cercherei mai Attenzione a una persona Che è già impegnata Ma appunto Forse per sempre La stessa Snob reason Del fatto che Se voglio una persona La voglio tutta per me Ah quello è vero Però secondo me Sempre su questa Vibe Snob Quando si è tradite O traditi Una delle prime sensazioni Per lo meno per me È stata la vergogna Totale Per mesi Poi la fatica anche Di parlarne agli altri Come se fosse una cosa Che comunque Indichi qualcosa Del tuo valore Però è veramente brutta Questa cosa Perché Un po' rispetto anche A quello che dicevamo prima In realtà è una cosa Che tu subisci Cioè Tu che ce ne puoi No no Sei la vittima Sì sì certo Sì 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 Che poi è quello Che ti dicono le persone Intorno a te Però tu All'inizio Fai fatica Cioè ti senti Ti senti che tutti Ti guardano Ti giudicano E dicono Però lei è stata Tra l'invita Sti cazzi Per me È stata un po' La vergogna Perché Nel mio caso Era una relazione Su cui io avevo investito Tanto e tante persone Mi avevano remato contro Mi avevano messo Degli alert E io un po' Capoccia dura Anni e anni Avevo insistito E quando pensavo Che stesse andando Tutto bene Poi è venuta La luce Questa cosa E un po' Mi vergognavo Del dire Cavoli Gli altri forse Avevano ragione O forse l'avevano visto Forse sono una Stupida io Ecco mi sono sentita Ho detto Stupida io Ad averci investito Ancora un'altra volta Che poi Siamo tutte e tre persone Che hanno appunto Tentato di dare Una seconda chance A questa relazione E secondo me Molto dipende proprio Da questo Io per realtà Sono stata Devo essere sincera Un po' convinta Nel tornare in questa relazione Perché io volevo uscirmene Anzi C'è stata questa scena Molto Iconica Che ho visto Tra l'altro Quest'anno Quindi dopo anni Rispetto a questa A questa situazione In White Lotus C'è questa donna Che insomma Ha un cattivo rapporto Col marito Lei dice Tu mi fai sentire sola E io amo stare da sola Ma stare con te Mi fa sentire sola In un modo che non mi piace E io ho vissuto Questa cosa tanto In questa relazione Cazzamo La senti proprio dentro Sta roba qua E quindi Quando poi È successa questa cosa Mi sono veramente Detta Da un lato Ho una buona uscita Amo Posso dire Ne esci da regina È vero Avere la coscienza pulita Sì totale Per chi ha il senso di colpa Sicuramente Aiuta Per chi soffre Il senso di colpa Io so Un sacco il senso di colpa Questa cosa mi ha aiutato Mi sentivo È vero Noi bimbe Cresciute a pane E sensi di colpa Dei genitori Di una generazione boomer Oggi mio padre Mi ha detto Che gli faccio Boomer shaming Questa l'ha imparata Sull'instagram Esatto E io gli ho risposto Ok boomer A me lo fa mia sorella Boomer shaming Cioè quindi questa È un po' Stata la nostra reazione Di fronte alle cose No ma Dopo Come l'abbiamo vissuta Nei mesi Negli anni Nei secoli Amen Allora Dopo aver fatto La drama queen No No che il drama È sempre necessario È sempre necessario Il drama è dovuto Raga in questi casi Esatto Dopo essere Avere avuto il primo impatto Iniziale Dolore che Cioè proprio Non esce Non esce Nel senso che Io lo dicevo a tutti Dicevo È un dolore fisico Che non avevo mai provato Mi faceva proprio male Il cuore E io da subito Proprio dai primi giorni In cui era successo La notte stessa Pensavo E avevo deciso Che non voleva Attaccarmi al rancore Quindi io La mia prima cosa È stato Ma proprio Pochi giorni dopo Perdonare quella persona E quello è stato Il mio primo passo Per andare avanti Però una domanda Cioè tu lo stavi perdonando Per lui O per te Questa è un'ottima domanda L'ho perdonato per me Assolutamente Perché è proprio il discorso Cioè la persona appunto Era pentita Però non l'ho fatto Per togliere a lui Un peso Cancellare quello Che aveva fatto Perché comunque rimaneva Cioè il concetto era Che io Matilde Non volevo legarmi Al rancore All'odio Al dire Sono la vittima Che è stata Non volevo Volevo essere libera Di andare avanti Oltre a questa cosa E quindi Però non so voi Io in realtà Questa cosa La noto in tutte Le litigate Gli scontri Con qualcuno Faccio molta fatica A rimanere arrabbiata Non so perché Ma non riesco a stare Dentro questo sentimento People Prison Esatto Stavo dicendo Questo dipende Cioè ci sono persone Che vivono Di conflitti Cioè che non vedi l'ora Di avere una minima Scusante Per incazzarti Perché è proprio La rabbia Che ti dà forza E Se Poi ci sono le persone Che li evitano Perché è un sentimento Che non riesci a reggere Anch'io mi trovo Da questa parte qua Quale? Dell'evitare totalmente Che poi Cioè ad esempio In questo caso Del tradimento Secondo me Rispetto ad altri scontri In cui faccio fatica A rimanere arrabbiata C'è stata una parte di me Che è rimasta sempre arrabbiata Certo Che rimarrà sempre In tutti Sì Dall'altra parte Dall'altra parte appunto Io mi sentivo Improvvisamente Con la palla in mano Cioè la palla Era passata a me Io potevo scegliere Se perdonare Se non perdonare Cosa fare E quindi questa cosa Dal lato ti fa sentire Molto Finalmente in controllo Potente Donna potente Saretta? Ma allora Io Come vi dicevo Allora Io in realtà Ho perdonato Tra virgolette Mi sento di dire Ma perché Cioè Diciamo che Dopo averlo scoperto E tutto Io ho continuato A stare con questa persona Anche per anni dopo Quindi io in realtà Poi dentro Covavo Più che in risentimento Sì Magari all'inizio Era tristezza Poi si è tramutata In risentimento Sì Si diceva sì Top Che alla fine Ha distrutto la relazione Cioè l'ha logorata Pian piano Dal mio punto di vista Quindi cioè Se potessi tornare indietro Alla Sara Di anni fa Le direi Molla subito Però così L'ho imparato Io sono una persona Che probabilmente Per il momento Credo tuttora Non riesco a perdonare Ma va bene così Preferisco Non perdonare Ma piuttosto Che vivere con Sempre Questo pensiero No Perché poi ovviamente Spesso ti trovi Ti scontri con l'altra persona Che mi dice Ok sì Hai perdonato Stiamo andando avanti Perché me la ritiri fuori Questa storia Esatto Perché Secondo me È la grande difficoltà Perché appunto Tu hai guadagnato la palla Poi quando decidi di perdonare Passi di nuovo la palla All'altra persona E questa persona Deve stare a degli standard Altissimi Sai che io non ho mai Avuto questo pensiero Nel senso che Affrontiamola Capiamo insieme Però non c'è mai stato Ed è stranissimo Perché io sono veramente Una persona Che te le tira fuori Ma per anni E anni Cioè me ne leggo proprio C'ho delle catene Legate a Dosone Non ho mai fatto E non mi è mai venuto in mente Di farlo Beh magari c'è stata Cioè ti tiro la battutina acida Perché sono in PMS Sono un po' Iii Però Eh ci sono Però Non so voi Ma vabbè Ovviamente Quando compri una macchina rossa Ti guardi in giro E vedi solo macchine rosse Quindi quando vieni tradito Ti guardi in giro E vedi solo persone Che sono state tradite Che hanno tradito Che hanno vissuto comunque Queste situazioni Sicuramente ne parli anche di più E Noi troppo Esatto E senti anche tante storie Però dall'altra parte Ti accorgi anche come Sia dalla tua parte Della natura umana E poi sarebbe Anche interessante Vedere il discorso Credi nella monogamia Dopo un tradimento Perché secondo me Poi Oddio Entra anche un po' questa cosa Ma mi sembra Io ci credo Sì sì Voi credete nella monogamia Fermamente Per me Sì Ah perché secondo me Mi è da dubitare Su quella degli altri Totale Però anche lì Cioè nel senso Io non sono sicura Non dico che non credo Nella monogamia Però non sono sicura Che sia effettivamente Plausibile Entrare in una relazione A 25 anni Ed aspettarsi che Entrambe le persone Saranno fedeli per sempre Non lo so Mi sembra un po' Ok Sì Questo è totale Totale Io non dico Non credo nella monogamia Nel senso Non credo che sia Il mio modello di amore Perché Anzi Purtroppo faccio molto fatica In realtà Ad approcciarmi a temi Come il poliamore Altro Proprio Fatica personale A capirle Interioritarli Certo Però Faccio fatica Cioè metto un po' in dubbio Il modello di monogamia Ora no Avendo vissuto Non solo proprio Avendo vissuto questa esperienza Ma anche vedendola Negli altri In coppie di Diverse età Nel senso Che poi ovviamente La vedi Nei genitori dei tuoi amici Nelle persone Le persone Adulte Parenti Cioè Persone vicine a me Adulte Con quelle che mi sono confrontate Non hanno mai reagito Come i miei coetanei I miei amici Che magari erano più Sulla difensiva Sul Andare avanti Sul guarire Tutti questi discorsi Qua erano su E vabbè Succede È successo Non succede niente Che etico C'era che non andava Cioè Evidentemente Non eravate le persone Adatte a stare insieme Non eravate Cioè È sempre stato un ragionamento Più così Più razionale Non concentrato Sul fatto Del fatto stesso Del tradimento Certo Però anche lì Mi viene da chiedermi Secondo voi Dietro ogni tradimento C'è un motivo Perché io non credo Troppo nella retorica In realtà Del se ti ha tradito È per un motivo Se ti ha tradito Mancava qualcosa Nella relazione Che lui cercava O lei cercava fuori Non ci credo troppo In questa cosa No Perché secondo me C'è l'occasione Che fa l'uomo ladro Oddio La colpa comunque Secondo me Risiede sempre in una persona Però sì Sono d'accordo Che Non c'è Anche lì Uno spesso Cerca poi Di colpevolizzarsi E dire Oddio Ma perché Ho dato io Delle mancanze Spesso non è vero Cioè non c'è Nessuna mancanza Spesso è veramente Anche si tratta Veramente soltanto Di una stupidata Di noia Di distrazione Non so Sì Io Raga Questo è un bel tema Non so come la penso Perché Mi piace quello Che dite D'è vero Però C'è Se sei in una relazione Ami C'è passione C'è serenità C'è tutto quello Che ci deve essere C'è Non capisco Come arrivi Anche Ti puoi anche solo Avvicinare A avere la tentazione Di un'altra persona Ma io guarda Credo nella debolezza Degli esseri umani Per questo ti giuro Totalmente Ma anche perché Secondo me Un po' quello che ci dimentichiamo In una relazione Che comunque Siamo tutti degli esseri Moltisfaccettati Cioè ovviamente Quello che riceviamo Che abbiamo in una relazione Ma poi abbiamo anche Altri bisogni Che vanno al di fuori Di questa Tra l'altro è molto interessante Se va a me capitasse C'è una sociologa Belga Mi sembra che sia molto brava Che parla proprio di questi temi Dice come appunto Nella società di oggi Ci aspettiamo dal partner Tutto no? Che sia il nostro miglior amico Che sia un campione a letto Che sia un supporto emotivo perfetto Ci abbiamo preso tutto quello Che erano Una comunità intera Un villaggio L'abbiamo voluto mettere Una sola persona Cos'hai? Non sei convinta? Non mi ha convinto Non sei convinta Ti vedo Eh ma raga Io credo alle fatine No vabbè ma ci sta Ci sta Cioè magari tu pensi Che ci sia sempre sotto Uno stato più profondo Di dubbio Che abbia scosto qualcuno Che sia un dubbio Sull'altra persona Ma perché è la mia Personale esperienza Cioè la mia personale esperienza Per quanto poi Non che mi sia meritata O che doveva succedere Quello che è successo Però c'era qualcosa Che non andava Cioè non è che è stato Un fulminaccio il sereno Sì nel periodo in cui Era La relazione Ma perché c'erano dei demoni Che io in primi Stavo nascondendo E non affrontando Certo E quindi Perché è la mia persona Esperienza Però io accolgo E capisco Anzi Bellissimo avere anche Dei punti di vista diversi E cioè Sentirli tutti insieme Sentire anche proprio Più campane Rispetto a quello Anche che dicevi prima Parlando di Persone adulte Più grandi Con cui parli di tradimento Non so se voi avete avuto Questo pensiero Quando siete state tradite O quando comunque Avete scoperto il tradimento Ma una delle cose A cui io ho pensato È stata Sono contenta Di aver vissuto Questa esperienza Nei miei vent'anni Con una relazione Tra le virgolette Non per forza importante Rispetto al viverlo Per la prima volta Certo In un matrimonio Ad esempio Raga io qua Mi piace una perla Cioè io L'altro giorno Stavo riflettendo Su questa cosa Ma voi vi sposereste mai Se non ci fosse La possibilità Di divorziare Perché io col cazzo Sinceramente No l'altro giorno Ci stavo Io mai mi sposerei Ve lo giuro Per quanto Cioè io Mi vorrei sposare Nella mia vita Una cosa che ci tengo Abbastanza Cioè non per l'atto in sé Ma mi piace Come rito L'accesso di ritti Che ti dà Ma col cazzo Che lo farei Se non ci fosse Il divorzio Mi piace però Questa partnership Tra Sara E Enrico VIII Ti giuro No No perché Cioè è un vincolo assurdo Legarsi così tanto A una persona No è vero E io purtroppo Non so se questo Si ricollega Alla monogamia di prima Però in un certo senso Cioè può succedere di tutto Non lo metto in dubbio io Ma anche pensare Che crescendo due persone Possano cambiare Cambiare Assolutamente Non essere più complementari Sì Sicuramente ecco Più il tradimento Avviene In una situazione Magari più Completa Costruita Tipo in una famiglia Più magari può essere Complicato per certi aspetti Anche se credo che comunque Con l'età Un po' di saggezza Lei è acquisita Per Anche solo per Saperlo Gestire nel migliore Dei modi Possibili Ma raga Domanda così Un po' Brucia pelo Se E qui non giudicate Chi ha le corna Perché voi potreste Averle e non saperlo Anzi È molto probabile È molto probabile Lo spero per voi Io vorrei che fosse così No vorrei proprio Cioè no No io non le auguro A nessuno Ma qua nasce una nuova domanda Ragazze Secondo voi È peggio Tradire O essere traditi Allora Io parlo A una persona Che soffre tantissimo Di sensi di colpa E questa è la stessa Risposta che Riciclo Alla domanda Preferisci Lasciare O essere lasciati Per la stessa Identica Cazzo di ragione Che è Io preferisco Essere la vittima Ma perché Me ne sciacquo Dei sensi di colpa Io so che A lasciare O a tradire Io verrei Veramente uccisa Dai miei sensi di colpa E per me È un po' più facile Gestire qualcosa Di esterno E Farmi forza Da sola No Rinascere Dalle ceneri Cioè è una cosa Che magari mi dà Un po' più Di Di forza In un certo senso Faccio un percorso Su di me Vabbè Io è totale d'accordo Con te Un po' anche per il discorso Che facevo prima E tuttora Mi stanno venendo Dei grossi dubbi Sul mio possibile Latente narcisismo Ma Un po' perché Preferisco essere Dalla parte della ragione Che dalla parte del torto E un po' perché Comunque Cioè secondo me Le occasioni per tradire Non mancano mai nessuno Un po' in generale Perché siamo tutti Un po' promiscui Però Però al di là di questo Non lo so Io mi sono sempre sentita Un po' appunto Forse Erroneamente Però mi sono sempre sentita Un po' in grado Di frenare Qui non pensi niente Però quello che ho sempre pensato È Cioè non è che Bunti incontri Pene in vagina O Pene in altri posti Vagine in altri posti Però La verità è che Ci sono tanti momenti No? Prima Prima di arrivare Al momento E io mi chiedo Cosa ti passa Nella mente In quei momenti Poi è veramente Ovvio che è facile per noi Che siamo trovati Nella situazione opposta Dire Io non l'avrei mai fatto Perché è sempre un po' facile Esatto Secondo me Finché non ci sei dentro È difficile Da capire Totalmente Però Riprendo la domanda Che hai fatto Del Anch'io Come voi Cioè preferirei essere Tritta Sia per tutti Sperate che avete fatto voi Sia perché Magari non per il futuro Grazie E ai futuri fidanzati Sì esatto Farò vendicativa Farò vendicativa No scherzo No ecco Però una cosa Che ha cambiato La mia percezione Non ho risposto Neanche a questa domanda E mi continua a perdere cose Sì anch'io mi sa Che mi sono perso qualcosa Una cosa Che mi ha fatto Cambiare percezione Nei rapporti Con le altre persone Anche sentimentali Dopo È che non me ne frega più niente È che non me ne frega più niente In che senso Nel tradimento No Non nel tradimento Ma non mi ha fatto diventare Overgelosa sta cosa Ma anzi mi ha fatto dire Forse adesso sono un po' Nella fase in cui Dico sti cazzi Cioè non me ne importa di nessuno Se deve succedere Se deve succedere Se deve succedere Cioè è talmente una cosa Incontrollabile Incontrollabile Fuori dalle mie azioni Dalle miei Sono una brava persona No dai miei comportamenti Da tutto quanto Che non Sono più tra Ah se sono più È successo E poi sono molto fatalista In questo momento Un momento Cioè quindi per me Se è successo Sono contenta Che è successo Soprattutto in un momento Dove sono giovane Libera E Meglio Cioè non è la persona per me Siamo liberi Ognuno è libero Per la sua strada Andiamo avanti E E poi Ovvio Non sono contenta Di quello che è successo Vabbè nessuno lo è Però Io pensavo fosse la fine del mondo Cioè pensavo fosse la fine del mondo Cioè che non ti saresti mai ripreso No mai Ed è proprio il concetto di Si sopravvive Però Esatto Ma vi volevo fare una domanda In questo senso Rispetto alle cose che stavi dicendo ora Ma a me capita molto spesso Nelle relazioni in generale Ma in questo caso in particolare Dato il tradimento Che quando una relazione finisce Amo la sensazione del fatto che È come se la partita si riazzerasse È come se tutto quello che è andato storto Io ora potessi farlo E avere qualcosa di perfetto No Figo Amo è vero Non ci ho pensato Però adesso che ci penso sì È tipo Perché poi all'inizio è così Quando inizi Una nuova frequentazione Poi dopo un po' ti accorgi Che in realtà siamo umani Quindi la merda è sempre la stessa Cioè sempre Quindi alla fine Cioè secondo me sì Bello Magari durare i momenti In cui sei da sola Poi appena inizi ad avventurarti Ti ritorni e dici Cazzo Però effettivamente Alla fine È sempre così Sempre qua siamo No Cioè Ok Problemini Risolvibili Ci sono sempre comunque Certo Ma anche cose che vanno storte Perché poi in ogni situazione ci sono E soprattutto Tante anche cose cringe Che poi ripensi Nei mesi Negli anni successivi E cringe malissimo Sì Quei momenti in cui sei Lavare i piatti Mamma mia No raga A me l'ipro Non è attacchi d'ansia Che non avete idea Io ho questa reazione incontrollata Quando penso ad una cosa cringe Che mi è successa nel passato E anche se sto andando in bici per strada Sono sul tram Io faccio questa faccia Sì Anche io un po' Mi vengo a prendermi a schiaffi E io quindi mi immagino Una persona esterna Che mi guarda Io così Magari al telefono Faccio i cazzi miei E poi a un certo punto Secondo me è talmente 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 C'è Francia Secondo me è talmente Una sentizione comune Che le persone fuori Capiscono di cosa Stavo in del momento cringe Secondo voi Si può perdonare davvero Un tradimento? E' una domanda super personale Allora Per ora Ti direi Che io non ne sono capace Cioè Mi piacerebbe molto Perdonare in futuro Ora come ora Non so se Sono la persona per farlo Ma ho imparato Accettare sta cosa Amen Cioè non fa per me Non credo che siamo tutti Pronti a farlo Ammiro molto le persone Che lo fanno Spero magari Di riuscire a farlo in futuro Per ora Ti direi No Ma io faccio molto breve Poi lascio la parola Alla nostra amica Mati Però Sapete che in realtà Sì Penso di sì Ah ci sta Non perché io sia Il super uomo di Nice O niente di simile Ma proprio perché Avendolo vissuto da un lato Sono stata contenta Di aver dato una seconda chance A questa persona E a quella relazione Perché invece Penso che un tradimento Da un lato Si è risolvibile O perlomeno affrontabile Penso è stato bello Lasciarci lo spazio Di capire che erano Altre le cose Che non potevano Portare avanti Quella relazione Quel rapporto Certo Certo Ma il fatto mio è che Non è che non riuscirei A perdonarlo Per la gravità Dell'evento in sé Cioè lì riuscirei Anche in un certo senso A razionalizzarlo A capirlo Alla fine del discorso Mi renderebbe Troppo insicura E mi indebolirebbe Troppo per andare avanti In quel rapporto Io la penso Esattamente come te Cioè Credo nel perdono Anche perdonato Sono stata contenta Di tornare con la persona È strano Perché comunque Cioè perdonare Non vuol dire dimenticare Cioè la cosa rimane lì Ma mi aggancio a questa cosa Per dire una cosa Che tenevo in realtà A dire in questo podcast Ed è la seguente Ovvero un po' Nella nostra cultura Ma anche nelle cose Che ci siamo dette Appunto il tradimento Sembra l'atto più alto Di mancanza di rispetto Che tu possa fare Lo vedo molto più grave In tante altre situazioni In tante altre mancanze di rispetto In tanti altri comportamenti Che non tanto in quel caso Cioè tenevo a dire questa cosa Perché appunto Secondo me Mi ha permesso molto Nel tempo Di dare un frame diverso Al tradimento Ragioniamo Fisico Sentimentale Perché io penso che veramente Il tradimento più alto Che una persona ti possa fare Sia Non supportarti Non rispettarti Non lasciarti libera Non lasciarti libera È tristemente attuale Ma anche Veramente anche Non supportarti Non essere in grado Di starti accanto Nei momenti brutti Ma anche in quelli belli Essere veramente lì per te E veramente Essere il tuo cheerleader numero uno Let's wrap it up Per chiudere Vabbè Un pochino Ci tenevo a ringraziarvi Per esservi prestati A questa chiacchierata Anche un po' Cuore aperto Deep Un po' Passare il cuore Ce non è neanche semplice In realtà Lasciarsi andare così Su determinati argomenti Di determinate cose Non abbiamo fatto nomi Se vi abbiamo risolto Fatto venire meno paura Del tradimento Fatecelo sapere E soprattutto A tutte le persone Che hanno avuto piacere Di ascoltare questo podcast Fino in fondo C'è un bel bottoncino Segui Su tutte le piattaforme In cui metteremo Questo podcast Che non sappiamo ancora Quindi non elencheremo Elencheremo dal prossimo Potete seguirci Sui nostri profili Ma soprattutto Se non volete seguirci Non volete metterci like Commentare Shareare E avete problemi Di commitment Un po' come i nostri ex Potete sempre fare Un bello screenshot Di questa magica puntata E condividerlo Sulle vostre storie Dura solo 24 ore Da Sara Raldi Matilde Concle E Sara Tartarini Tanti bacini Raga Stop